E' Andrea Rinnovati il nuovo responsabile dell'area funzionale chirurgica dell'ASL 8 di Arezzo dopo la nuova nomina dirigenziale avvenuta in seno alla ASL 8. Sentiamo di che cosa andrà ad occuparsi. Il nuovo ruolo della responsabilità dell'area funzionale chirurgica è una cosa importante perché secondo quelle che sono le previsioni della direzione aziendale e delle programmazioni regionali prevede la responsabilità dell'organizzazione di una nuova rete provinciale per le urgenze chirurgiche una creazione di gruppi di lavoro per patologia, cioè vale a dire come oggi si fa un gran parlare degli ospedali a high volume cioè a alti volumi di chirurgia per settori specifici, al di sotto di questi numeri viene considerata non voglio dire insufficiente ma sicuramente leggermente carente la qualità della prestazione chirurgica creare questi gruppi di lavoro quindi è una cosa importante. Uno di questi primi gruppi di lavoro sarà sicuramente per il carcinoma gastrico che è una patologia purtroppo ancora molto ben rappresentata in provincia di Arezzo e di cui sfortunatamente noi abbiamo una buona esperienza facendo anche parte di quello che è il gruppo italiano di ricerca sul carcinoma gastrico che sta concludendo il trial in chemioterapia unita alla chirurgia neoadiuvante e i cui risultati vedranno luce nelle più belle riviste internazionali il prossimo anno.